Amici software open source, benvenuti e bentornati in questa nuova video anteprima del canale YouTube di Marcos Box. Quest'oggi andremo a vedere un'aggiunta che è stata appena fatta nelle build daily di Ubuntu 23.10, la prossima versione di Ubuntu semestrale che vedrà alla luce il mese prossimo, e che in questa nuova versione è stata aggiunta un'applicazione di cui vi avevo parlato qualche tempo fa, e che farà felici molti di voi la scorta, e sto parlando del nuovo app center. Sulle build a partire dal 11 settembre troveremo preinstallato il nuovo app center scritto in Flutter, è un app center sviluppato dalla comunità, inizialmente sviluppato dalla comunità, che poi è stato integrato, è stato adottato, è stato portato sotto l'ala di Ubuntu. Questa prima versione, come potete vedere, è la versione 1.0.0 Alpha, e andiamo a dare uno sguardo, vediamo un po' come l'interfaccia e come funziona. Come potete vedere, in alto è possibile cercare un'applicazione, ad esempio cerchiamo VLC, vediamo che cosa possiamo fare, che cosa possiamo installare. Allora, questo attualmente fa vedere soltanto le versioni snap delle applicazioni, quindi non è possibile installare, vediamo come si fa l'installazione, non è possibile installare applicazioni in formato, cioè direttamente dai ripositori della listro. Vediamo se mi smentisco subito. Allora, qui fa vedere quali sono le impostazioni, qui fa vedere gli aggiornamenti, ok. E una volta che sta installando, resta lì appeso, non sappiamo che cosa sta facendo. Perfetto. Iniziamo con dire che è bene ma non benissimo, perché io stavo installando l'applicazione di VLC, si è interrotta, perché sono passato a un'altra schermata, e si è interrotta l'installazione. Riproviamo l'installare VLC, vediamo che cosa combina adesso, si blocca tutto ovviamente, ti pareva. Ah, sì, è un'alpha, si vede molto che è una versione alpha. Ok, non dà segni di vita, non fa vedere che cosa ha installato. Perfetto, l'ho fatta già crashare. Che belle queste cose che vengono aggiunte. E questo verrà reso stabile fra... Ah no, ecco, ho appena finito di installare. Sono stato smentito in diretta, vediamo se riusciamo a avviare VLC, da qua anzi è la versione in snap, come potete vedere. Andiamo a dare uno sguardo, vediamo che cosa ha combinato una volta andato a installare. Cliccando su Manage, possiamo vedere quali sono le applicazioni che sono state installate in formato snap, e possiamo andare a gestire VLC, l'ultima che abbiamo installato, la troviamo sotto. Troviamo preinstallato Firefox in formato snap, che io odio come la peste, e troviamo poi i due pacchetti snapd che servono per far funzionare il tutto. Qui possiamo vedere i dettagli. Quindi ci rimanda soltanto a questa schermata. Perfetto, non possiamo disinstallare da questa schermata, quindi ci fa soltanto eventualmente aggiornare. Ah sì, è una cosa un po' inutile. Avrei preferito vedere qui la possibilità di disinstallare l'applicazione, visto che sto gestendo l'installazione del programma da qui, però a quanto pare non si può fare. Quali sono le altre funzionalità? L'interfaccia, come possiamo vedere, è responsiva. Qui sulla sinistra abbiamo la possibilità di avere un filtro tra le varie voci, quindi qui possiamo esplorare le applicazioni da installare. Nella schermata principale sono divise quelle in evidenza, alcune consigliate. Qui abbiamo la divisione per categorie, per poter filtrare il tutto. Qui è possibile mettere, ordinare all'interno delle sottocategorie per rilevanza, in ordine alfabetico, in ordine di dimensione. Perché non ho messo i nodi a dimensione? Non ho capito perché ne ho messo un filtro del genere, ma avranno ritenuto sia una cosa buona e giusta mettere un filtro di questo tipo. Andiamo a Productivity e qui possiamo vedere quali sono le applicazioni per la produttività. Quindi troviamo Chromium, troviamo qualche altro browser web come Brave Opera, le suite d'ufficio e quant'altro. Questo sta, quello che vedete qui è quello che vedete anche sullo store di Ubuntu. Quindi questo non fa altro che filtrare, riproporre quello che vediamo sul sito. In sviluppo, qui in sviluppo che cosa andiamo a vedere? Sono le applicazioni per lo sviluppo, quindi editor di codice, quello che preferite, io preferisco Code, sono una persona cattiva, lo so perché utilizzo una cosa da Microsoft, sono brutto e cattivo, ma su Linux preferisco utilizzare questo, quando non utilizzo KDE, perché su KDE di solito mi faccio bastare il kit, per quel poco che faccio. E poi abbiamo la categoria Games, quindi con raggruppati giochi. E in questo caso, ecco, in questo caso sarebbe stato utile magari avere qui un filtro per separare i giochi, per tipologie di gioco, ma a quanto pare non ancora ci hanno pensato. Preferisco mettere sempre quelle standard per rilevanza, alfabetiche e dimensioni. vediamo come si comporta. Ad esempio, torniamo a VLC, vediamo se è possibile fare subito il cambio. Io ho installato prima la versione stabile di VLC, vogliamo che succede se io voglio passare, che ne so, alla versione Edge. Ah, ecco che c'è la possibilità di fare lo switch del channel in automatico. Come abbiamo visto prima, e non cliccate per adesso su altre voci qui di lato, mentre sta facendo l'aggiornamento o l'installazione, perché altrimenti vi perdete la barra di avanzamento dell'installazione. Sembra che si blocca tutto. Ecco, questo è un suggerimento che mi sento di dare. Implementate subito una cosa del genere che consente di mostrare lo stato di avanzamento dell'applicazione all'interno del... che, insomma, magari mettetelo qua sotto, così come fa... ehm... come fa... come fa il gestore applicazione di KDE. Vediamo se ve lo lancio. Che quando installate, comunque qui vi mostra la barra di avanzamento, in modo tale da riuscire a capire che cosa state installando. Perché se non mi metti una cosa del genere, io magari vado nel panico perché inavvertitamente ho installato qualche cosa. Non so se sta continuando ad installare oppure no. se inavvertitamente vado a cambiare... vado ad esplorare qualche altra cosa, qualche altra applicazione. Vediamo se nel frattempo finisce di fare l'aggiornamento, ma giusto per scopolo. Ah, e adesso vediamo un'altra cosa. Vediamo se è in grado anche di gestire l'installazione di pacchetti in formato DEB che ho installato, che ho scaricato prima. Vediamo... Vediamo Google Chrome. Ovviamente non è possibile installare niente. Non c'è un'applicazione predefinita per i pacchetti in formato DEB su Ubuntu. Grande cosa quella di aver fatto una fesseria del genere. Allora, io adesso gli diciamo di utilizzare l'App Center. Ok, abbiamo finito di installare la VLC. Vediamo prima se parte la VLC, la versione è quella Edge. Ricordiamoci sempre che è un'applicazione in formato Snap che io sto seguendo adesso su macchina virtuale. Quindi già è lento di su, poi ci metterà altri dieci anni per partire. Confido che partirà prima o poi. Andiamo a vedere quello che ci interessa. Se è in grado anche di installare l'applicazione in formato DEB. Allora, visualizza tutto. Gli diciamo di utilizzare l'App Center. Ci sta pensando. Ci sta pensando. Pensa molto. VLC nel frattempo ha deciso di non partire più. Vediamo se riesce a installare il DEB. Ci sta pensando. Pensa molto. Nel frattempo ne approfitto per ricordarvi che sulle pagine di Marcosbox trovate una sezione dedicata al canale Telegram di Marcosbox con la possibilità di acquistare prodotti da Amazon utilizzando il mio link referral che può essere utile per supportare il blog perché se acquistate un prodotto da Amazon utilizzando il mio link referral o direttamente un prodotto che linko nel canale Telegram dedicato all'offerta di Marcosbox potete supportare il canale perché Amazon mi darà una piccola percentuale. Sembra che non fa l'installazione dei pacchetti in formato DEB. Ci sta mettendo troppo a pensare. Che sia il pacchetto di Chrome troppo grosso non penso. Ah, nel frattempo vi faccio vedere anche quest'altra piccola novità di Ubuntu 23.10. Avete visto? Ho cambiato l'indicatore qui per la gestione di spazi virtuali. Non so se è una cosa che è cambiata anche sull'ultima versione di GNOME non avendola provata perché come avete avuto modo di vedere, come vedete a barra in basso, sono ritornato al mio caro vecchio KDE che mi dà più soddisfazione. Fai se giungo alla versione 45 su Ubuntu 23.10. Nice, molto carino. Mi piace anche questo look qui che hanno messo del pannello da dare. Niente, sembra che l'installazione dei pacchetti in formato DEB non sia abilitata, non sia funzionante. Quindi niente da fare. Sì, è anche brutta questa schermata. Ritorniamo sempre a questa schermata. La schermata che vi fa vedere come le applicazioni installate. Trovo scemo non aver raggiunto una voce per disinstallare l'applicazione direttamente da qua. Questo può fare delle applicazioni di sistema in formato SNAP, installate. Però come potete vedere c'è solo la possibilità di aggiornare i pacchetti in formato SNAP. Non c'è la possibilità di cliccarci da sopra per fare rimozioni. C'è solo questo per mostrare i dettagli e poi eventualmente rimuoverlo da qua. Quindi, doppio passaggio. E sarebbe stato carino mettere una voce qui per poter disinstallare direttamente i programmi senza andare, senza fare un doppio clic in un'altra schermata. Comunque, di sicuro gira meglio. Sembra essere più reattivo rispetto al vecchio software center di Ubuntu. Speriamo che nel corso dei prossimi mesi migliori ulteriormente vada a colmare tutte queste piccole lacune che vi ho anche fatto vedere in modo tale da arrivare bello pronto per la prossima LTS di Ubuntu. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci riascoltiamo prossimamente con una prossima puntata di Podcast di Marcosbox o sul canale YouTube con un prossimo video. Ciao ciao!